La notizia di Venafora Sono ricoverati in gravi condizioni padre e figlio dopo una lite avvenuta in famiglia, è accaduto tutto ieri sera dopo le 21.30 in un appartamento lungo il viale della stazione ferroviaria, ancora c'è molto da verificare su questa vicenda, pare però certo che padre e figlio sono stati trasportati d'urgenza in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale veneziale di Isernia in codice rosso, non è chiaro cosa sia accaduto in casa, secondo quanto riferito da alcune persone che si trovavano in zona, quando sono arrivati i soccorsi pare che si tratti di una lite sfociata nel sangue che avrebbe coinvolto pure un terzo familiare, oltre a due ambulanze del 118 sul posto sono arrivati ovviamente i carabinieri che stanno procedendo a raccogliere in queste ore gli elementi utili a ricostruire la dinamica dell'accaduto, durante la lite pare sia spuntato anche un coltello o un grosso cacciavite, l'arma poi utilizzata per ferire le due persone, ovviamente maggiori dettagli al riguardo saremo in grado di fornirveli nel corso dell'edizione delle 14 del telegiornale, ed ora invece vediamo cosa racconta la prima pagina di Primo Piano Molise, Sanità, Giustini e Grossi tagliano il budget ai privati, il decreto del 5 febbraio firmato dal commissario e dalla vice riduce di 6,4 milioni i fondi a tutte le strutture convenzionate, a Neuromed e Cattolica 5,4 milioni in meno e stop perentorio alle attività extra. E Greco interroga Toma, dopo quanto tempo le regioni di residenza dei pazienti non molisani ci restituiscono i soldi che anticipiamo per le prestazioni erogate dall'Istituto di Pozziglia e dal Gemelli? Il punto a firma di Alberto Francini, Molise, Terra sana e Popolo Saggio è il saluto che il questore di Campobasso fa alla città perché è stato di recente trasferito. Vasto Girardi, furto al caseificio del padre del consigliere Andrea Di Lucente, rubati 1.400, Cacio Cavalli. Tar, ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, parliamo del procedimento dei capi dipartimento Roccaravindola, non gli rinnovano il permesso, 10 migranti mettono a fuoco il CAS. Coronavirus, 38enne in prognosi riservata, preoccupazioni a Pozzigli, l'uomo lavora alla Unilever di Casal Pusterlengo, gli autotrasportatori che fanno la spola con il sito Lombardo indosseranno in via precauzionale la mascherina. Sanità chemio meno invasiva, caschi refrigeranti negli ospedali. Campobasso, tranciato un cavo durante lo scavo Enel, intilte la rete team. Pantera ha spasso sui monti molisani, avvistata a Duronia, Bagnoli e Carpinone, ormai è psicosi. Sport, Campobasso, Fabriani pronto per Montegiorgio imporre il nostro gioco. L'Agnonese ha accolto il ricorso per Minicucci, sconto di un turno, rientra contro i lupi. Basto girardi, farina, studia una mossa sorpresa per battere l'Olimpia. Ed ora spostiamoci sulle testate nazionali. Il messaggero, ovviamente l'apertura la dedica a quanto sta accadendo in merito al coronavirus in Italia, apertura fra l'altro comune a tutti i quotidiani italiani. Avanza il virus nord in quarantena, il contagio arriva in Italia. In un giorno 17 casi accertati tra Lombardia e Veneto. Cordone per 11 comuni, grave, un uomo di 38 anni, positivi la moglie incinta e 5 sanitari. Il ministero in isolamento, chi viene dalla Cina. Renzi non strappa, l'emergenza blocca la crisi e Conte riapre la trattativa. Viaggi, sport, tempi di incubazione, la guida antipanico. L'ipotesi malato si è rimesso e il mistero del paziente zero. Era in oriente, ma test negativo. L'Odila, provincia come Wuhan, Codogno, una città fantasma, tutto chiuso, sospese le messe. Roma, 700 posti letto, pronti a intervenire, guariti i due cinesi. Individuate strutture e caserme, sta bene anche il 29enne italiano, arrivano i 19 della Diamond. Corriere della sera, il virus in Italia, un morto in Veneto, è un uomo di 77 anni, in Lombardia 15 casi, nei comuni chiusi, scuole, uffici, bar e stazioni, Conte, attenzione alta. Nell'Odigiano, grave, 38enne, che aveva cenato con un manager tornato dalla Cina, positiva anche la moglie incinta, restrizioni per 50.000 persone. Era stato a Shanghai il diffusore prelevato di notte. Noi come Wuhan, qui sembra un set, è il racconto nei paesi della bassa padana, quando va a pezzi l'idea di modernità, il pezzo di Antonio Scurati, opposti ed estremismi. Lavoro, gare e corsi, quei 19 giorni del paziente 1, la ricostruzione, la vita e i contatti. La Repubblica, virus il nord nella paura, già 15 contagiati in Lombardia, tra cui medici e infermieri a Codogno, un focolaio anche in Veneto. 10 comuni isolati, 50.000 abitanti costretti a rimanere in casa, scuole chiuse, non messe e partite di calcio. Il ministro Speranza, quarantena obbligatoria per chi arriva dalla Cina, Salvini, confini blindati, Conte, non serve. 10 cose da sapere per evitare i rischi, poi un richiamo sulla strage razzista in Germania, quell'incubo venuto da lontano, una sconfitta per la Merkel. Il sole 24 ore, virus in Italia, quarantena per 50.000, in Lombardia 15 contagiati, in 10 comuni, nell'Odigiano, altri due casi nel Padovano, nell'area del focolaio, chiuse con una ordinanza tutte le attività produttive. Fatturato dell'industria, primo calo in 5 anni, l'export non corre più. Riaperto il ponte sulla A6, ma 157 viadotti sono da rifare. Andiamo in chiusura con la Gazzetta dello Sport, che in apertura riporta la notizia del coronavirus. È in Italia un morto in Veneto, aveva 78 anni, Lombardia 15 contagiati, stop allo sport dilettantistico. C'è solo un Milan, l'amministratore delegato rossonero ricompatte il club, io, Boban e Maldini abbiamo gli stessi obiettivi, la nostra squadra appartiene ai tifosi, abbiamo fiducia in Pioli, nessun accordo con Ragnic. Quel diavolo di Rebic stasera rivede Viola. Cristiano Ronaldo Miller, Ronaldo storico, gioca a Ferrara la millesima gara. Prima di salutarci vediamo quali sono i programmi che andranno in onda oggi sulla nostra rete a partire dalle 11 conto alla rovescia, alle 13 camminando Molise, alle 13.50 Musa TV, alle 14 il TG, alle 16 conto alla rovescia, alle 18 speciale Transumanza, alle 19.30 TG News, alle 21 Paese Mio, alle 23 l'ultimo appuntamento con l'informazione. È tutto anche per questa mattina, grazie per averci seguito, arrivederci. Grazie a tutti.